ciao a tutti ragazzi ultima stagione per fifa 23 storica ultima stagione dato che poi electronic arts ha deciso di non firmare più l'accordo con fifa e cambiare il nome al gioco sappiamo che si chiama EAFC 24 ragazzi quindi andiamo a vedere quali sono i premi di questa stagione mi raccomando e cambiamo andiamo in game allora facciamo scorrere velocemente un po' ho già sbloccato ma le cose succulente sono qui nei vari step a metà allora primo primo step abbiamo un isaac 92 un fantafoot oppure un 5 giocatore 94 più allora io a questo punto del gioco isaac 92 ragazzi lo butterei in SVC a quel punto qui tentiamo la sculata con i futis 5 giocatori 94 più e via poi secondo step interessante abbiamo un modric squadra dell'anno quindi toti oppure un 10 giocatore 95 più sinceramente sinceramente se riuscite a ibridare questo modric non è davvero niente niente male occhio solamente al piede debole 4 però è interessante non è fisicatissimo ma ha statistiche abbastanza elevate occhio la velocità che a questo punto del gioco non è molto rapido però sicuramente un buon giocatore se dovete potenziare il centrocampo è molto interessante se già state a posto e volete sculare in maniera in via reconda dire il pacchetto non è da 10 85 più io probabilmente andò con lui anche perché ho modricio 97 quindi non me ne farei nulla andiamo avanti andiamo avanti livello 15 7 giocatori 84 più o 5 giocatori 95 più io direi 7 giocatori 94 più tanto il più 1 per due giocatori in più insomma è meglio quindi 7 giocatori 94 più andiamo avanti livello 20 abbiamo clarkent vabbè kent buggatissimo ottimo come super sub dove avere anche un 5 5 quindi ottimissimo davvero come super sub oppure 25 giocatori 84 più allora difficile da ibridare ha però l'intesa premium quindi lui non ha bisogno di altri giocatori per essere ibridato però non dà ibridazione agli altri quindi occhio potete metterlo come giocatori titolare 5 5 ottimissimo io lo uso più come sub però si ripida da solo quindi si può far giocare anche titolare senza problemi oppure insomma se volete farvi qualche sbc se avete già la squadra posta non vi serve kent anche i super sub siete a posto la sculata in questo momento la tenterei comunque questo 25 giocatori 94 più un po dipende tutto dalla vostra formazione andiamo avanti livello 25 non c'è nulla no niente 30 abbiamo diogo iota 96 quindi futis è un 55 beh bel giocatorino questo qui è a buono buono ottimo ottima punta questo qua devo dire veramente un'ottima punta quindi se vi serve una punta portoghese della premier è un interessantissimo con opzione 30 giocatore 84 più qui siamo al solito discorso si può tentare la sculata con questo giocatore se iota non vi serve se avete siete già a posto con gli attaccanti eccetera però un 55 ragazzi niente male io ho 178 fisico non è non è grossissimo dipende può essere un ottimo ottimo no punta regista no è un'ottima punta e basta se vi serve se avete già le punte sta posto eviterei quindi andrei a tentare la sculata con questo giocatore con questo pacchettone a 30 giocatori dipende un po dalla vostra formazione nel caso fatemelo sapere nei commenti e guardiamo insieme 35 a allora questo ferdinand forte sicuramente è un po basso in velocità per questo punto del gioco io non lo sbloccherei andrei sul 10 giocatore 35 più tento la sculata e sono più contento se avete iniziato da poco vi serve un difensore centrale occhio perché comunque non è rapido andiamo a vedere un attimo le statistiche 86 di accelerazione scatto 94 è troppo lento per questo questa ultima fase eviterei ultima non è ultima pardon livello 40 e beh e beh allora uno di cinque no 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 e ha venicius junior 98 non si scappa lasciate perdere l'attentivo di sculata perché qua venicius non si scappa troppo forte se riuscite a bridarlo no non c'entra intesa premium lui basta fine non impazziteci troppo forte lo sbordo schiacciare vediamo l'ultimo traguardo vediamo 45 pardon 41 ho detto una cavolata l'ultimo traguardo è a 41 è la maglietta anno del blu questa qui è quella che vi serve poi per andare a sbloccare degli obiettivi quindi vabbè non c'è nulla di di anomalo quindi vi dicevo vinicius va fatto beh dai non è male sicuramente ottimo fine stagione per fifa 23 ragazzi fatemi sapere nei commenti se avete deciso di sbloccare le stesse carte che vi ho consigliato o meno oppure no appunto fatemi sapere nei commenti ragazzi come sempre folla con youtube mi piace al video ci vediamo al prossimo filmato ciao a tutti